In questo tutorial vediamo degli esempi sulle condizioni parametriche, in particolare affronteremo le condizioni che riguardano la somma delle radici. Partiamo da questo esempio. Data questa equazione parametrica, devo determinare il valore di k affinché l'equazione abbia radici opposte, ossia x1 deve essere uguale a meno x2. Per risolvere questo esercizio innanzitutto dobbiamo garantirci che l'equazione ammetta soluzioni e allora devo imporre che il delta di questa equazione risulti maggiore o uguale a zero e allora devo andare a scrivere b alla seconda, ossia 4k più 2 alla seconda, meno 4 per a, ossia il coefficiente di x quadro che è pari a k per c che risulta essere pari a 4k più 5 e questa quantità deve essere maggiore o uguale a zero. Ottengo così una disequazione che vado a risolvere. Dopo aver sviluppato questo quadrato di binomio ed eseguita questa moltiplicazione posso semplificare 16k quadro con meno 16k quadro. Sommo poi le k ottenendo meno 4k ed infine ricopio il 4. Moltiplico tutto per meno 1 ottenendo 4k meno 4 minore uguale a zero. Porto il meno 4 a destra e divido tutte e due membri per 4 ed ottengo che k deve essere minore uguale a 1. In altre parole, questa equazione ammette soluzioni soltanto per valori di k minori uguali a 1. Una volta che abbiamo fissato le condizioni di esistenza delle soluzioni di questa equazione rispondiamo alla domanda. Devo determinare k in modo tale che le radici siano opposte. Dire radici opposte vuol dire x1 uguale a meno x2, ma se portiamo meno x2 a sinistra otteniamo x1 più x2 uguale a zero. In altre parole, la somma delle radici deve essere uguale a zero e quindi scrivo s uguale a zero. Ricordando ora la relazione tra i coefficienti dell'equazione di secondo grado e la somma delle radici, posso andare a scrivere che s è uguale a meno b fratto a, dove b in questo caso è 4k più 2 ed a è uguale a k e allora scriverò meno 4k più 2 fratto a che risulta essere pari a k deve essere uguale a zero. In questo modo otteniamo un'equazione di secondo grado che andiamo a risolvere. Moltiplicando tutte e due membri per k semplifichiamo il k a denominatore e mettiamo come condizione di esistenza che k comunque deve essere diverso da zero. Moltiplico poi tutte e due membri per meno 1 ottenendo 4k più 2 uguale a zero, da cui 4k uguale meno 2 ed infine dividendo tutte due membri per 4 semplifichiamo il coefficiente di k ottenendo meno 2 quarti, ossia k uguale a meno un mezzo. Visto che questo valore si trova nel campo di esistenza delle soluzioni dell'equazione di secondo grado, ossia è un valore minore o uguale a 1, allora è una soluzione ammissibile e do la certezza che quando k è uguale a meno un mezzo l'equazione associata avrà radici opposte. Vediamo quest'altro esempio. Devo determinare k in modo tale che l'equazione abbia radici opposte. Innanzitutto mi devo garantire che l'equazione ammette soluzioni e allora devo imporre che il discriminante dell'equazione deve essere maggiore o uguale a zero e allora vado a scrivere b alla seconda, ossia meno 2 che moltiplica k meno 1, tutto quanto alla seconda, meno 4 per a, ossia il coefficiente di x quadro che è 5k, per c che risulta essere pari a un quinto k deve essere maggiore o uguale a zero. Ho così una disequazione che vada a risolvere. Dopo aver distribuito la potenza 2 in meno 2k meno 1 ed eseguita questa moltiplicazione semplificando 5 con 5 otteniamo questa quantità. Osservo che nel primo termine e nel secondo termine è presente un 4 e allora posso dividere tutte e due termini per 4. In teoria dovrei anche scrivere a destra fratto 4 ma 0 diviso 4 è 0. In questo modo semplifico ottenendo un'equazione più semplice. Semplifico ora k quadro con meno k quadro ottenendo meno 2k più 1 maggiore o uguale a zero, portandolo 1 a destra. Moltiplicando tutte e due membri per meno 1 e dividendo per 2 si ottiene k minore o uguale a un mezzo, ossia questa equazione ammette soluzioni quando k è minore o uguale a un mezzo. Andiamo ora a rispondere alla domanda del problema. Devo determinare k in modo tale che le radici siano opposte, ossia vuol dire che x1 è uguale a meno x2. Portando meno x2 a sinistra è come scrivere x1 più x2 uguale a zero, ossia la somma delle soluzioni deve essere uguale a zero. Ma visto che la somma delle soluzioni è uguale a meno b fratto a, posso andare a scrivere meno b che è pari a meno 2 fratto k meno 1, ossia è il coefficiente della x, fratto a, ossia il coefficiente di x quadro che è pari a 5k deve essere uguale a zero. Ottengo così un'equazione in k che vada a risolvere. Dopo aver semplificato il denominatore moltiplico questo meno con questo meno ed eseguo la moltiplicazione ottenendo 2k meno 2 uguale a zero, da cui 2k uguale 2. Dividendo infine tutte e due membri per 2 e semplificando si ottiene k uguale a 1. Questa soluzione però non la possiamo accettare in quanto non rientra in questo campo di esistenza. Ricordiamo che questa equazione ammette soluzioni quando k è minore uguale a un mezzo e quindi, visto che 1 non si trova in questo intervallo, non lo possiamo accettare. Devo determinare k in questa equazione parametrica affinché la somma delle soluzioni s sia uguale a meno 5 quarti. Innanzitutto imponiamo il delta dell'equazione maggiore uguale a zero, ossia andiamo a determinare gli intervalli di k per cui questa equazione ammette soluzioni. e vado a scrivere b alla seconda, ossia b, attenzione, che è questo termine, ossia il termine in x e quindi scrivo 4k meno 1 alla seconda, meno 4 per il coefficiente di x quadro. Il coefficiente di x quadro è pari a meno 4 per c, ossia il termine noto che risulta essere pari a meno k quadro e questa quantità deve essere maggiore o uguale a zero. Ho così una disequazione in k che vada a risolvere. Dopo aver sviluppato questo quadrato di binomio ed eseguita questa moltiplicazione, possiamo semplificare 16k quadro con meno 16k quadro. Portiamo l'1 a destra e poi moltiplichiamo tutte e due i membri per meno 1, cambiando diverso. Divido poi tutte e due i membri per 8 e semplifico. E allora posso concludere dicendo che l'equazione ammette soluzioni per valori di k minori o uguali ad un ottavo. Ora possiamo rispondere alla domanda del problema. Devo determinare k in modo tale che la somma delle soluzioni sia uguale a meno 5 quarti. Visto che s è uguale a meno b fratto a, posso andare a scrivere meno b, ossia il coefficiente di x che è pari a 4k meno 1, fratto a, ossia il coefficiente di x quadro che è pari a meno 4, questa quantità deve essere uguale a meno 5 quarti. Ho così un'equazione che vada a risolvere. Come prima cosa semplifico questo meno con questo meno, scrivendo più e più. Poi moltiplico tutte e due i membri per 4 e semplifico i denominatori. Porto poi meno 1 a destra ottenendo 4k uguale meno 4. Dividendo infine tutte e due i membri per 4 semplifico il coefficiente di k e a conti fatti si ottiene k uguale meno 1. Visto che questo valore si trova in questa regione, ossia è un valore minore o uguale a un ottavo, allora è una soluzione ammissibile ed è il valore per cui questa equazione ha come somma delle soluzioni meno 5 quarti. Devo determinare k in modo tale che questa equazione abbia somma delle soluzioni maggiori di 10. Come prima cosa devo imporre che l'equazione ha metà soluzioni e quindi devo andare a scrivere che il delta deve essere maggiore o uguale a 0 e vado a scrivere b alla seconda, ossia meno 2 che moltiplica k più 1, tutto quanto alla seconda, meno 4 per a, ossia il coefficiente di x quadro che è 1, che non ricopio, per c che è pari a 4k deve essere maggiore o uguale a 0. Ho così una disequazione in k che vado a risolvere. Come prima cosa distribuisco la potenza 2 in questo fattore e questo fattore e sviluppo k più 1 al quadrato. Osservo ora che questo termine e questo termine hanno un 16 e allora posso dividere sia il primo fattore che il secondo fattore per 16. In questo modo si ottiene un'equazione più semplice. Sommo poi 2k con meno k, ottenendo k alla seconda più k più 1 maggiore o uguale a 0. Essendo questa disequazione di secondo grado, passa l'equazione associata e vado a determinarne le soluzioni. Mi rendo conto che il delta di questa equazione risulta essere minore di 0 e questo vuol dire che quando vado a rappresentare il segno di questa disequazione otterrò sempre più. Allora vuol dire che questa disequazione è sempre verificata e quindi scrivo per ogni k appartenente ad r, ossia questa equazione ammetterà sempre soluzioni reali. Rispondo ora alla domanda del problema. La somma delle soluzioni deve essere maggiore di 10. Visto che s è uguale a meno b fratto a, posso andare a scrivere meno b, ossia meno 2 che moltiplica k più 1, fratto a che è pari a 1, ossia il coefficiente di x quadro, questa quantità deve essere maggiore di 10. Ottengo così una disequazione che vado a risolvere. Meno per meno fa più e vado a scrivere 2k più 2 maggiore di 10, ossia 2k maggiore di 8. Divido poi tutte e due membri per 2 e semplifico ed ottengo k maggiore di 4. Per andare a determinare i valori di k per cui viene verificata questa proprietà, devo prendere adesso la parte comune di questa soluzione con questa soluzione. Nel primo caso mi viene detto che va bene qualunque valore di k, nel secondo caso devo prendere valori di k maggiori di 4, allora posso concludere dicendo che la soluzione comune è questa, ossia quando k è maggiore di 4. Devo determinare k in modo tale che questa equazione abbia come somma delle soluzioni un valore maggiore di 8. Prima di tutto devo determinare i valori di k affinché questa equazione ammetta soluzioni reali e allora devo imporre che il delta dell'equazione deve essere maggiore o uguale a 0 e vado a scrivere b alla seconda e quindi meno 4 che moltiplica k meno 3 tutto quanto alla seconda. Meno 4 per a, ossia il coefficiente di x quadro che è 1, che non riscrivo, per c che è pari a 4 che moltiplica k alla seconda meno 2k deve essere maggiore o uguale a 0. Ho così una disequazione che vado a risolvere. Dopo aver distribuito questa potenza 2 in questo fattore e in questo fattore ed avendo sviluppato il quadrato di binomio mi rendo conto che questo termine e questo termine hanno un 16 in comune e allora posso dividere tutti i termini per 16. In teoria l'avrei dovuto fare anche di qui ma 0 diviso 16 è pari a 0. Semplifico e poi cambio di segno in questi due termini. Mi rendo conto ora che posso semplificare k quadro con meno k quadro ed ora meno 6k più 2k è pari a meno 4k. Porto il 9 a destra ottenendo meno 9. Moltiplico tutte e due i membri per meno 1 e divido per 4 ed ottengo che k è minore o uguale a 9 quarti. Per tutti i valori di k minori o uguali a 9 quarti allora questa equazione ammetterà soluzioni reali. Vado ora a rispondere alla domanda del problema. La somma delle soluzioni deve essere maggiore di 8. Visto che s è pari a meno b fratto a allora vuol dire che meno b fratto a deve essere maggiore di 8. Vado ora a sostituire al posto di b meno 4 che moltiplica k meno 3 e al posto di a il coefficiente di x quadro che è 1. E allora posso scrivere meno, apro una quadra, meno 4 che moltiplica k meno 3 fratto a, ma a è 1 e quindi non scrivo nulla, maggiore di 8. Ottengo così una disequazione che vado a risolvere. Dopo aver moltiplicato i segni posso dividere tutti e due i termini per 4. In questo modo semplifico il 4 di fronte a questo fattore. 8 diviso 4 è pari a 2 e poi porto il meno 3 a destra ottenendo k maggiore di 5. Per andare ora a determinare i valori di k per cui la somma delle soluzioni di questa equazione risulti maggiore di 8 devo intersecare queste due soluzioni. Nel primo caso, ossia la condizione di esistenza, mi viene detto che devo prendere tutti i valori minori o uguali a 9 quarti. Nel secondo caso, quando ho la somma delle soluzioni maggiori di 8, devo prendere i valori maggiori di 5. Osservo che questo sistema di disequazioni non ammette soluzioni in comune e quindi risulta essere impossibile. Ciò vuol dire che non esisterà nessun valore di k per cui la somma delle soluzioni di questa equazione sia maggiore di 8. Vediamo quest'ultimo esempio. Devo determinare il valore di k in questa equazione in modo tale che la somma delle soluzioni sia uguale a 4. Osservo che c'è scritto che k deve essere diverso da un nono, perché se k fosse un nono, sostituendo qui otterrei 9 per un nono che è 1, meno 1 è 0, quindi non avrei un'equazione di secondo grado. Impongo ora che questa equazione ammetta soluzioni, ossia devo andare a scrivere che il delta deve essere maggiore o uguale a 0 e vado a scrivere meno b, ossia meno 12 che moltiplica k meno 2, tutto quanto al quadrato meno 4 per a che è pari al coefficiente di x quadro e quindi scrivo 9k meno 1 per c dove c è pari a 3 più 4k deve essere maggiore o uguale a 0. Ho così una disequazione che vado a risolvere. Dopo aver distribuito questa potenza 2 in questo fattore e in questo fattore ed avendo sviluppato il quadrato di binomio mi rendo conto che questi due termini li posso dividere per 4. 144 diviso 4 risulta essere pari a 36 e moltiplico ora 36 per questa quantità, mentre qui 4 diviso 4 è 1 e quindi metto semplicemente 1, andando a ricopiare questi termini cambiati di segno. A conti fatti si ottiene che k deve essere minore o uguale di 147 fratto 167. Vado ora a rispondere alla domanda del problema. La somma delle soluzioni deve essere uguale a 4. Visto che s è pari a meno b fratto a, questo vuol dire che meno b fratto a deve essere uguale a 4 e allora posso scrivere meno linea di frazione b, in questo caso, è pari a meno 12 che moltiplica k meno 2 fratto a, dove a è pari a 9k meno 1 e questa quantità deve essere uguale a 4. Ho così un'equazione che vada a risolvere. Dopo aver fatto il minimo comune multiplo e semplificati i denominatori, porto 36k a sinistra e meno 24 a destra. Moltiplico ora tutte e due membri per meno 1 e poi divido tutte e due membri per 24 e semplifico a sinistra. Meno 20 ventiquattresimi è pari a meno 5 sesti. Devo ora stabilire se questa soluzione è una soluzione ammissibile, ossia devo capire se questa soluzione si trova in questo intervallo. Certamente meno 5 sesti è una quantità minore di 147 su 167 e quindi è una soluzione ammissibile e allora sono certo che per k uguale a meno 5 sesti questa equazione ammette soluzioni la cui somma è pari a 4. E con questo termino il tutorial su condizioni che riguardano la somma delle radici.